Dall'inizio dell'emergenza coronavirus Fratelli d'Italia ha dato la sua massima disponibilità a collaborare. Però chiediamo anche al governo dei provvedimenti che sia possibile sostenere. Penso ad esempio al tema delle carceri. In queste ore una circolare del Ministero della Giustizia stabilisce il principio che un agente della Polizia Penitenziaria che fosse entrato in contatto con qualcuno contagiato non avrebbe diritto alla quarantena e dovrebbe comunque lavorare e stare in carcere. Nelle stesse ore il decreto cura Italia stabilisce il principio invece che un detenuto che abbia da scontare ancora una pena inferiore ai 18 mesi possa farlo da casa. E quindi non capiamo. Funziona il principio che un agente che rischia il contagio debba stare in carcere e un detenuto che sta benissimo debba stare a casa? Secondo noi no. Noi chiediamo provvedimenti che garantiscano soprattutto le forze dell'ordine, gli agenti della Polizia Penitenziaria e chiediamo che il coronavirus non sia la scusa per un altro decreto svuotacarci.